ciao io sono antonino talamo e sono qui per invitarti alla ballottore di percussioni corporali batukenamah laboratorio si terrà ogni sabato mattina e pomeriggio qui nella nuova sede di via de marinis per cui se ti va ad imparare a sfumare il tuo corpo come uno strumento musicale come un tamburo contattami e cominciamo a presto